Ci troviamo presso le sale espositive del Osharni Santa Fosca a Venezia, in pieno centro storico, in occasione della mostra del pittore Carlo Mialic, la mostra dal titolo L'arte senza confini. In questa sala sono esposte una serie di opere che spaziano dall'acquerello alle tecniche miste, dove si può intravedere la passione che l'artista, nato a Fiume nel 1934, dicevo la passione che l'artista ha nei confronti della città di Venezia, la rende trassognata, ne riprende gli scorci, ne riprende i momenti e li fa suoi per modificarli e renderli un'atmosfera. Queste opere quindi si inseriscono all'interno di un percorso espositivo nel quale si riconosce una volontà diaristica da parte del pittore, ossia Carlo Mialic utilizza l'arte per rappresentare i momenti della sua vita, momenti che appunto sono composti da momenti tragici, momenti sereni e felici, e quindi ce la espone, questa sua biografia ce la espone attraverso la sua pittura. Una pittura appunto che varia sia dal punto di vista stilistico, in quanto ci sono rimandi alla dimensione verista, alla dimensione strattista, ma anche varia dal punto di vista emotivo, in quanto riporta momenti che egli ha vissuto di tristezza e momenti di contentezza. Se osserviamo gli acquerelli, in particolar modo questo, troviamo una visione del sestiere di castello, non è una visione realistica, qui il colore si sfrange, l'acquerello assume un effetto quasi bagnato su bagnato, e quindi il colore diventa emozione, ma non è una visione prettamente espressionistica, è una visione personale dell'artista. Il colore si fa emozione, si fa emozione dell'artista. Può essere che l'artista, passando per la magnifica città di Venezia, sia stato colpito da questo ponte, oppure che l'artista all'interno di quest'opera inserisca un ricordo della sua vita che ha a che fare con questo ponte e queste costruzioni, solamente che ce le restituisce con l'atmosfera ovattata, nella quale si intravede una sorta di dolcezza. Gli fa ecco contraria invece un'altra opera, una tecnica mista, nella quale si intravede una sorta di ritorno al momento della fanciullezza, al momento dell'infanzia. Ho detto poc'anzi che è classe 1934, nato a fiume, quindi ha vissuto la tragedia della Seconda Guerra Mondiale, ha vissuto la tragedia dell'invasione titina, ha vissuto la tragedia delle foibe, ha vissuto la tragedia dell'esodo istriano d'Almata. E questa opera, che è appunto composita, nella quale si riscontrano, grazie alla tecnica mista dei rimandi, delle immagini che appartengono alla sua vita, vita nella quale appunto emerge questo momento di dolore, perché si tocca il periodo della fanciullezza, un periodo in cui nessun bambino, nessun giovane dovrebbe essere così accostato alla tragicità della storia. Purtroppo per Carlo Mialici, come per milioni di persone, non è stato così. Ecco dunque nella parte alta lo scorcio della sua terra natia, il mare, questa tipica terra carsica, che definisce geograficamente e anche morfologicamente, se così si può dire, il nord-est italiano, e un insieme composito di immagini, nelle quali si riconosce appunto, si intravede lo scorrere di questa infanzia, e quindi si possono intravedere magari delle architetture, chissà forse un convitto dove il pittore ha dormito da giovane, si rivedono delle immagini di una foto di classe, e quindi è un ritorno alla memoria, sembra quasi una ricerca del tempo perduto, ma attraverso questa decodificazione dell'opera, sì il maestro segna il suo dolore, se così si può dire, ma nel momento stesso in cui dipinge, in cui opera, diventa taumaturgo di se stesso. L'opera d'arte quindi è il momento di vita, ma è anche il momento di espiazione in senso positivo. L'arte ha anche un grande valore taumaturgico, senza questo non si spiegherebbero per esempio i cicli pittorici e artistici di grandi artisti che hanno toccato e hanno elaborato il momento della seconda guerra mondiale, il momento dei campi di sterminio, il momento dei gulag, il momento dell'esilio. Quindi un'opera che ci induce a riflettere non solamente sulla storia tragica oggettiva, ma sulla storia tragica soggettiva del pittore, ma anche sul fatto che la storia dovrebbe essere maestra di vita e quindi certi errori non dovrebbero ritornare. Purtroppo, ai giorni nostri, non sempre si può confermare questa frase. Basta appunto dare un'occhiata ai giornali, accendere la televisione, guardare il telegiornale e vedere quanti conflitti in questo periodo percorrono non solamente l'Europa, ma tutto il mondo e quindi quanta sofferenza, quanta morte. Ecco, è quindi una pittura biografica, una pittura che serve per raccontare se stesso, raccontare il fatto, in sé è un fatto gravissimo. Purtroppo ancora oggi l'Italia non è riuscita a fare i conti con questo passato, perché è un passato di dolore e non basta solo leggere la storia, non basta solo recarsi nei luoghi, penso alle foibe, ma bisogna anche avere l'opportunità di incontrare le persone che hanno vissuto questo tragico periodo e come incontrare un internato di un campo di concentramento. Non è solamente il numero tatuato sul braccio che fa la tragedia, ma è il racconto e di questo ne abbiamo bisogno. Quindi è una rappresentazione, mi verrebbe da dire, un'odissea di un viaggio nel quale noi contemporanei, noi italiani, ma non solo, ci dobbiamo così confrontare, dobbiamo fare i conti per riuscire a dipanare questo bandolo della matassa che purtroppo non sempre ancora oggi è dipanato. Basti fare riferimento alle polemiche che nascono quando vengono così intitolate piazze o vie o vengono così creati monumenti alle foibe. In queste non si vede solamente la storia, ma si deve intravedere il dolore, si deve intravedere la sofferenza. Se ciò accade, il monumento, quindi anche l'opera d'arte, ha una funzione, è una funzione, mi permetto di dire, biologica, perché appunto l'arte ha questa funzione, non è solamente il ricordo, ma è un ricordo sensibile. Senza questo l'arte non esiste. l'arte non è sempre può essere la fine, non è sempre